Sono Fiocco di Neve Fiocco di Neve per me la sua definizione è un cristallo dove la luce viene riflessa e la luce è l'elemento più puro che ci sia al mondo Il mio sogno è montare sul palco ed essere Fiocco di Neve un nuovo personaggio che si introduce nel mondo della musica